Stasera al Palalottomatica arriva L.A.T.U.T.E.I.M.O.N.I. il tour della regina del pop Venerdì 13 aprile 2018 13 e 22 Roma è pronta ad abbracciare una delle più grandi dive pop della musica contemporanea, Lana Del Rey. Elizabeth Grant, questo è il vero nome dell'artista new yorkese, è attesa questa sera per la tappa capitolina del tour, prodotto da Live Nation, che ha seguito l'uscita del suo ultimo disco Lust for Life che ha debuttato alla posizione numero uno della classifica statunitense Billboard 2000. Il tour intitolato L.A.T.U.T.E.M.O.N. prevede molte tappe in alcune delle più grandi città europee. Il disco è stato anticipato da alcuni singoli, Love, Lust for Life, Quakella Woodstock and My Mind, Summer Boomer e Gruppie Love, e contiene alcune preziosissime collaborazioni con The Weeknd, A Dollaro a Procchi, Playboy Carty, Steven X e Sean Lennon. Tutto questo sarà live stasera al Palalottomatica di Roma. L'onore di aprire la serata aspetterà a Cat Power, un'istituzione della scena indie-americana.